Bianco, gol, gol Per me è un sogno, che comunque siamo partiti da 1-2 e arrivare a questo traguardo è indescrivibile, però adesso festeggiamo un attimo e poi pensiamo subito al campionato. Ecco, siete state brave anche ad affrontare le condizioni atmosferiche, freddo, vento, gelo, pioggia. Una squadra di fortuna Yoring che nel primo tempo è stata messa in difficoltà dalla vostra disposizione tattica nella ripresa, poi hanno iniziato un forcing e i primi 20 minuti sono stati veramente difficili. Sì, loro fisicamente nel secondo tempo hanno avuto un po' la meglio su di noi, però siamo state brave a livello mentale a tenere la partita e le condizioni atmosferiche non le teniamo in considerazione perché i piedi non si sentivano più, però è andata bene. A chi la dedichiamo questo passaggio del turno? A chi la dedichiamo? Noi stesse, ce ne siamo meritate ed è giusto che adesso ci godiamo le conseguenze di quello che abbiamo fatto.